Buongiorno a tutti! Benvenuti in un mio nuovo video. Oggi avevo voglia di truccarmi perché devo registrare un video chiacchiericcio e volevo essere un po' più presentabile. Ho utilizzato dei glitter molto soft, ma se non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo subito, c'è proprio il pulsantino con scritto iscriviti, potete lasciare un commento, commentare, potete lasciare un like e commentare. Ricordatevi che per noi creators è molto molto importante, altrimenti YouTube ci lascia giù tra gli ultimi video e nessuno ci visualizza. Come vi dicevo poc'anzi, oggi ho utilizzato diversi prodotti, low cost e qualcosa anche un po' più di nicchia particolare. Sul viso ho il nuovo prodotto di Nabla, super chiacchierato, lo Skin Realist, un prodotto molto molto particolare, ma lo vediamo in action proprio durante il video tutorial. E niente ragazzi, video tutorial, get rid of me, non so come definire un video del genere. Io spero che questo look vi piaccia, vi lascio subito al video perché dura tantissimo. Ho già idratato viso e contornocchi con due prodotti. Per il viso ho utilizzato il Defense Boost all'acido ialuronico che ha un concentrato appunto a base di acido ialuronico e probiotici ed è proprio fluidissimo. I probiotici aiutano a rafforzare la pelle, vedete com'è fluido. E io lo adoro in questa stagione ma anche d'estate inoltrata quando non supporto nulla sul viso e divento lucida. Ho iniziato da pochissimo la crema contornocchi di Sephora che è quella all'acido ialuronico sempre e qualche giorno che la utilizzo mi piace tantissimo perché è tipo mousse, super super fresca, leggera ma nello stesso tempo mi idrata perfettamente il contornocchi. E adesso andiamo ad applicare lo Skin Realist. Premesso che io sono un mix tra due e tre, cioè light e medium, faccio così, in questo periodo magari appunto metto più light che medium. Io lo stendo dal centro del viso verso l'esterno. Io odio applicare i prodotti con le mani, non mi piace sentirmi sporca con le mani, quindi utilizzo il pennello. Però secondo me è un prodotto che si stende perfettamente anche con le mani, essendo una sorta di BB cream si fonde perfettamente nella pelle. Se avete una pelle mista vi consiglio di non eccedere, cioè di non applicare troppo prodotto. Solitamente non passo il fondotinta sugli contornocchi ma questa essendo una crema colorata ci passo tranquillamente. Questo è l'effetto appena steso. Ovviamente è molto lucido, cioè nel senso bisogna lasciare un attimino, far penetrare l'acido ialuronico che è presente all'interno del prodotto. Io solitamente consiglio di aspettare un 5 minuti tra il passaggio del fondotinta e la cipria. A meno che non andiamo estremamente di fretta e lì ragazzi, cioè ci sta che andiamo di fretta. Intanto correggo le mie occhiaie e vado leggermente con questo prodotto qui che sto testando da poco, che è l'Infallible di L'Oreal nella colorazione Biscuit 328. Vedete ne ho messo pochissimo perché in realtà ce ne vuole veramente poco. Essendo un full coverage, un correttore full coverage, ce ne vuole pochissimo. Con il residuo del correttore, ancora nel pennello vado su Giorgio qui, che mi è uscito ieri, l'altro ieri, ma non ha deciso di uscire. In realtà è rimasto sotto pelle. E vedete che lo Skin Realist non mi ha coperto le grandi imperfezioni di questo periodo, che sono brufoletti e rossori molto forti. Per cui io, siccome voglio comunque una base super leggera, non applico tanto correttore, ma con lo stesso pennello leggermente vado dove non sono riuscita a coprire con lo Skin Realist. Applico anche il primer occhi ed è lo Smashbox Photo Finish Light Primer in Light. Ne metto poco perché ho scoperto che questo primer correttore mi va a finire nelle pieghe se ne metto troppo. Quindi ne metto poco poco. Inizio a truccare gli occhi di modo che lo Skin Realist si fissa un pochino da solo, diciamo fa un po' il suo effetto e lo lascio appunto a sé stare. Senza filtri, senza inganni, guardate qui che pelle terribile in quest'ultimo periodo, vado con questa novità astra che è bellissima. L'ho comprata da Idea Bellezza, ma la trovate anche sul sito ufficiale. Io non collaboro con Astra, però ultimamente mi sto affacciando a questo brand che è super economico ed ha diversi prodotti veramente buoni. Ovviamente, ragazzi, se avete gli occhi extrasensibili, andate coi piedi di piombo, perché comunque parliamo di un brand economico, sì, buono, però non ci metto la mano sul fuoco per gli occhi ipersensibili. Utilizzerò un mix di questi qua. Vediamo. È un periodo un po' stancante. Io faccio spesso appunto dirette su Instagram, per cui voi sapete benissimo, cioè, che periodo sto attraversando. Perché stamattina proprio riflettevo su questo, che ci sono tanti lavori, come ad esempio chi è in smart working, chi è appunto in ufficio e non lavora a contatto col pubblico. Diciamo che, secondo me, sta in una sorta di limbo dove non ha ancora realmente capito al 100% la pericolosità, l'ansia di chi, come me, lavora a contatto col pubblico. E niente, quindi l'ansia è sempre forte e mi rendo conto che le persone, le clienti adesso sono... Non è che non lo erano prima. Sono tecnicamente più nervose. Ecco, questa forse è la parola giusta. Ovviamente non faccio di tutto un erbo un fascio, però è oggettivamente così. C'è un po' di nervosismo, un po' di ansia generale, quindi è tosta, è tosta. Poi, oggettivamente, non fare il proprio lavoro è difficile, perché io, teoricamente, facevo provare i prodotti sulla pelle, quindi adesso invece descriverli, spiegarli, insomma, non è... Non è il massimo. Ultimamente utilizzo molto poco questi colori del cherry, del pesca, della ciliegia. Non so perché, perché forse mi ci vedo male, eppure è un colore che con i miei occhi risalta tantissimo l'iride e in realtà poi mi piace una volta, però non mi fanno più battere il cuore come prima. Non so se vi ricordate all'inizio della mia carriera qui su YouTube utilizzavo sempre questi colori. Adesso ho perso un po' la mano, con questi colori ce li uso molto, molto poco. Comunque, questa palette non è affatto male, considerando che è una palette che ho pagato sugli 8 euro, sì, 8 euro più o meno. Scrive bene, si sfumano bene tra di loro i colori, non spolvera eccessivamente, quindi non male, assolutamente non male. Se cercate una palette da questi toni, secondo me ci sta, assolutamente ci sta. Ora vado con questo marrone bello scuro a intensificare questa parte qui esterna e risfumo. Ragazzi, vi volevo dire che ho acquistato il Dyson Airwap, sono così felice di averlo comprato che voi non potete capire perché sono anni che ci sbago dietro, però non ho mai avuto il coraggio di acquistarlo. L'ho preso a rate su QVC Italy e niente, mi è arrivato dopo pochi giorni. La cosa bella è che l'ho pagato a rate, cioè adesso si può pagare a 50 euro al mese, per cui ho preferito. Invece fino a un paio di settimane fa c'era la possibilità di pagarlo solo a 100 euro al mese. Quindi niente, lo sto utilizzando, questa è la seconda volta che lo faccio, in realtà i capelli non sono venuti benissimo. Siamo sinceri, non sono venuti come mi aspettavo. Però io circa un paio di mesi fa avevo provato il Dyson da una mia parente, da una cugina di mio marito e ho avuto un'ottima impressione. Nel senso che l'ho provato per 5 giorni e ho fatto lo shampoo due volte in 5 giorni e alla fine ho acquisito un minimo di manualità. Per cui mi sono decisa poi di acquistarlo, ma in realtà io ho un mese di tempo per recedere dall'acquisto sul sito QVC, quindi posso anche spedirlo indietro e mi restituiscono la prima rata. Però penso che non lo porterò indietro, in realtà. La cosa bella è che in realtà mi dà tanto volume. Io che ho un capello molto sottile, fine, che con la dermatite seborroica si azzecca in testa, sempre dallo stesso correttore, vado a fare una sorta di cut crease. E quindi in realtà devo prenderci solo la manualità e vorrei un attimino prima di parlarvene bene, perché so già che volete sapere cosa ne penso. Dite la verità, volete saperlo? Mi avete inondato di messaggi su Instagram, perché volevate sapere già adesso, dopo 3 giorni dall'utilizzo, come stava andando. Però ragazzi, abbiate pazienza, abbiate pazienza perché va provato bene. Alla fine non è che costa 50-60 euro, cioè parliamo di un prodotto che costa 500 euro. Allora aiutatemi, quanto speso, cioè quanto spenderò in realtà. Però abbiate pazienza perché io sono molto ottimista proprio perché l'avevo provato e mi stavo non andando bene. Ora devo capire che cosa è che ho sbagliato. Secondo me la lacca, perché ho usato una lacca un po' forte che me li ha un po' pietrificati e avevo dato la colpa al termoprotettore. In realtà secondo me la lacca. Secondo me ci vuole un altro pizzico, pizzico, pizzico di pesca. Ora vado con questo colore qui. In realtà gli unici colori shimmer sono questo e questo. Vado con questo che è un rosa pesca, leggermente al di sopra. Vedete che carino. Non contenta, vado con questa mega palette di Rude, che è tutta glitterozza. Poi andare al di sopra di questa parte qua, però ci vuole un pizzico, pizzico di primer per glitter perché altrimenti mi ritrovo i glitter anche nel naso. Utilizzo il primer di NYX. E vado con questo, che è un verde, verde, azzurro, lilla. Vado con questo, che però voi non vedete bene perché ha messo a fuoco la palette di... Ora vado con l'eyeliner ed utilizzo sempre Astra ed è uno dei miei eyeliner preferiti degli ultimi anni, secondo me. Ha superato anche quello di NYX perché quello di NYX esplode. Questo è in filtro, ma non si secca. Assomiglia molto a quello di Stiela. Non so se vi ricordate che era il mio eyeliner preferito, ma ogni volta per ordinarlo è sempre una tragedia. Per cui non lo stavo comprando più e ora andiamo a metterlo. Mi prendo un attimino, due minuti, vedete in velocità oppure vedete dopo. Ovviamente quando mettete i glitter, ragazzi, è normale che viene un po' a zigzag lì. Però tranquilli che poi un po' si assesta. Cioè, vedete con quanta semplicità ho fatto l'eyeliner? Metto un super kajal all'interno della congiuntiva sia sopra che sotto. Io eravamo con un pennellino piccolo, piccolo, piccolo. Questo è di Neve Cosmetics ed è il Violet Eyebrow, ma io lo adoro proprio per applicare l'ombrettina in questa zona qua perché è piccolissimo. Ando proprio col prugna, vi ricordo che è sempre attivo il mio sconto con Simo10 del 10% di sconto appunto extra sul sito ufficiale Neve. È uno sconto affiliato, quindi se volete sostenermi, se volete acquistare sul sito Neve ricordatevi di me. Ma poi soprattutto è un 10% extra, quindi si addiziona sempre agli sconti già presenti sul sito. Quindi ad esempio c'è il 20% di sconto sui fondotinta in questo periodo, avete il 20% più il meno 10% con il codice. Vado con il pesca, ho cambiato idea, quindi sono andata a sfumare un attimino l'ombretto di prima. E ora vado con il pesca, che secondo me ci sta tantissimo. A questo punto metto il mascara, questo lo completo dopo quest'occhio, e sto amando, adorando, sono foliamente innavorata del nuovo mascara Infinity di Bionique. È un mascara del tutto nuovo, voi conoscete sicuramente il 3D, che era il mio preferito, adesso che è arrivato lui lo ha sostituito, o meglio l'ho affiancato. Vedete che lo scovolo è particolare. Questo invece è il 3D, ve lo mostro anche, vi mostro la differenza tra l'uno e l'altro. Questo a sinistra è l'Infinity e questo a destra è il 3D. Quindi hanno scovoli differenti e hanno anche un effetto diverso, perché l'Infinity dà definizione, curvatura e lunghezza. In realtà nella dicitura del mascara non c'è scritto curvatura, ma ve lo dico io perché le incurva tantissimo. Se avete le ciglia che vanno verso il basso, sicuramente aiutatevi con la piegaciglia. Però in realtà questo mascara qui vi aiuta tantissimo a mantenerle curve per tante ore. La cosa principale che mi piace è che le definisce senza appesantirle, senza quell'effetto ciglia finta, magari appunto troppo evidente. Ma comunque anche se dà lunghezza, definizione, cioè vi dà questo senso di pulizia le ciglia, comunque vi dà volume, secondo me, comunque dà anche volume. Questa è una sola passata, vedete com'è? Queste sono le mie ciglia al naturale. E prima che asciughi completamente vado a dare una seconda passata. Ho pulito leggermente il pennello e mi è venuta voglia di un verdone per richiamare questi glitter verde acqua. Quindi vado con un ombretto verde, l'ho preso dalla palette Carnival di Be Perfect. Cioè, guardate il mascara che cos'è. Adesso devo incipriare la base. Come potete vedere, il prodotto di Nabla non si è asciugato. È rimasto un po' luminoso, lucido, perché è estremamente idratante. Idratante non vuol dire nutriente. Idratante vuol dire che è comunque ricco d'acqua, quindi va comunque fissato. Io vorrei farvi un video apposito su questo prodotto, molto particolare. Quindi fatemi sapere, anzi penso di registrarlo proprio successivo a questo trucco. Boh, vediamo un attimo. Perché secondo me c'è stata un po' di confusione su web. Per la zona con tornocchi vado con la cipria di Pat McGrath, quella proprio specifica per il correttore. Super sottile, non sbianca. La metto anche un po' nella rughetta qui, dove solitamente mi si accumula il trucco. Blush vado di questo, che è di Marc Jepo... Jepops. Di Marc Jacobs, che è un'edizione limitata in realtà. Non so se si trova ancora negli store, ma è stupendo. Cioè è pesca, bellissimo, si sfuma perfettamente. Dalla mia palette di Smashbox, la Contour, la Cali Contour, vado con un mix di questa terra e questa terra. Qui, ai lati delle tempie, per dare un po' più di gradè. Un pochino anche qui. Illuminiamoci con questa palettina di Dior, che è la Rose Gold di Dior Backstage. Ma per renderla ancora più evanescente, signore e signori, che faccio? Bagno il pennello, con cui metterò l'illuminante. È leggermente umido, non è proprio bagnato. E faccio un mix di questi tre colori. Cioè, parliamone. Bella luce. Mi metto un poco poco qua da sotto, per avere un po' più di illuminante soft qua. Definisco un po' le sopracciglia con la Nabla Uranus. Che in realtà è un po' scuretta, ma siccome il tatuaggio che ho è comunque un castano medio scuro. Voglio definire un attimino un po' di più. E ora, sulle labbra, voglio mettere uno dei rossetti liquidi di Astra, sempre. Vediamo. Allora, ho l'1, ho il 12, 16 e 14. Se non ero il 14, mi piaceva tantissimo. Ne ho comprati due da poco. Sì, ci sta anche, perché è un pesca. Allora, se vi state chiedendo da inizio video cosa ho qui, praticamente che avevo, avevo una sorta di punto nero che non si toccano, ma io l'ho semplicemente grattato così e è uscito fuori questo, quindi. Mi sembra un po' chiarino come colore, quindi ci vado a mettere un po' di uno sopra. Tolgo un attimino l'eccesso. Non metto fondotinta comunque perché non voglio creare ulteriore irritazione. Fisso tutto con il Fixer Forever nuovo di Dior. Ecco qua, questo è il trucco. E niente ragazzi, io spero che questo Get Ready With Me tutorial, come lo possiamo chiamare, vi sia piaciuto. Vi do un grosso grosso bacio, vi lascio giù tutti i link dei prodotti che ho utilizzato e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.